Cari avventurieri, miei scuri, ho deciso di spostare i video dei riassunti delle live su YouTube perché il tempo a mia disposizione su TikTok era veramente troppo poco I nostri avventurieri, dopo essere andati via da Rossa Folla, anche perché a Rossa Folla non rimaneva più nessuno la Chierica, una certa Elnas, aveva chiesto loro di accompagnarla al mare dove un'imbarcazione l'avebbe presa per portarla in un'altra destinazione quando ad un tratto un'orda di famelici pattis arriva all'improvviso il barbaro, senza pensarci troppo, si getta nella rissa e con il suo colpo turbinante, ottenendo un bel 20, taglia la testa a 5 pattis ma il ladro non è da meno, usando il passo scuro, va dietro a uno di loro e lo infilza lasciando la terra morto nel frattempo, dal mare, spunta fuori un uomo rana e dalla terra esce fuori un costrutto servitori di Bell gli altri due pattis muoiono subito tra il paladino e il ladro mentre si combatte una strana ombra aleggia nel cielo la chierica le aveva avvisati che in quella zona esisteva una possente creatura una creatura ma che non aveva niente a che fare con i servitori di Bell subito il colosso si avvicina al barbaro ma effettua un colpo che il barbaro riesce a schivare tranquillamente mentre la rana l'uomo rana ha la capacità di lanciare fulmini dagli occhi ne lancia uno contro il ladro ma esso viene schivato e finisce nel vuoto ed è in quel momento che il paladino decide di assumere la sua forma demone una forma terrificante si avvicina all'uomo rana e col suo soffio di fuoco nero riesce a colpirlo in pieno petto bucandolo da parte a parte mentre il duello tra il barbaro e il golem si fa sempre più acceso ecco rispuntare l'ombra dal cielo che frana frana letteralmente addosso i due squartando e squarciando il golem che fino a quel momento ha dato problemi agli avventurieri con una classe armatura impenetrabile il drago con una codata circolare fa volare via il ladro facendogli sbattere la testa e il demone coccodrillo sprofonda negli abissi a quel punto il barbaro si trasforma nella sua forma demoniaca il gigante colossale ma i suoi tacchi si rivelano vani contro il drago il ladro a quel punto si riprende e si trasforma pure lui in demone si avvicina e con i suoi quattro attacchi standard riesce a mettere temporaneamente fuori combattimento il drago ma qualcosa affiora dai abissi assieme al paladino e neptun un forgiato che vive nei fondali dei mari si avvicina con un salto ai due avventurieri e chiede loro di lasciare libera questa magnifica creatura i due avventurieri tornano normali decidono di liberare la creatura che vola via tutta acciaccata e neptun per ringraziarli dona al ladro uno strano pugnale la chierica raggiunge il mare e viene presa da una barca e se ne va ringraziando sempre gli avventurieri e neptun pure scompare nel profondo degli oceani il paladino si riprende e il gruppo è di nuovo insieme che si riprende la chierica la chierica la chierica Grazie per la visione!